Tanti sorrisi in casa Tennis Club 2002 Benevento per l'andamento del torneo di serie B maschile e femminile. Le squadre, guidate dal direttore tecnico Antonio Leone, stanno rispettando i pronostici della vigilia. La compagine femminile è nettamente al comando del gruppo 3, a punteggio pieno, dopo la vittoria per 3-1 nella tana del circolo tennis Marino Casalboni di Rimini. Un successo arrivato già dopo i primi tre singolari, vinti da una convincente Elena De Santis dalla garanzia Verdiana Veraldi e dalla solida mancina Marianna Natali. L'unico passaggio a voto è arrivato nel doppio, dove la coppia Veraldi-Leone non è riuscita a conquistare il punto del poker. Differente la situazione invece in casa maschile. Tra le muramiche la squadra è stata superata dalla capolista Tennis Club Lecco, guidata dal numero 442 delle classifiche mondiali Lorenzo Frigerio. Vittoria netta per gli ospiti che si sono imposti per 5-1, ma la classifica sorride ancora alla squadra sannita, che è attualmente al quarto posto con 5 punti in altre tante partite. Ora due settimane di sossa per gli internazionali d'Italia di Roma, poi spazio alle ultime giornate che metteranno i verdetti di questa avvincente stagione.